ciao a tutti nel video di oggi leo gioca con papà fedez esercitandosi a fare il loro saluto e rubandogli il nasino poi scherza con lui scambiandolo per un personaggio dei mappet vi lascio al video buona visione ciao ragazzi mi è appena arrivata questa scatola di dream it che è questo concerto virtuale fatto in streaming su youtube che ci sarà domenica sera a partire dalle 6 poi vi metterò il link a cui partecipa mio maritino a chi le la 5 puglietto il nasino ma come papà amore questo qua papà questo è papà amore no non è papà grazie è bello è bello papà si grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.